A mio fratello. Mio fratello è appena morto. Si chiamava Abdul. Per un pugno di quattreni si è fatto esplodere a Kabul. Ho appena nove anni e scrivo con un fucile tra le mani. È l'unica possibilità che ho se voglio avere un domani. Io sono un bambino e mi hanno insegnato che la guerra è giusta. Perché serve per avere la pace. Ma questa cosa qui io proprio non la capisco. La pace non sempre arriva dopo una guerra. È un abbraccio stretto di tutta la terra. Imbottito di esplosivi, Abdul ha ucciso otto persone e quattro erano bambini proprio come me. Sì, come me. E come Abdul. La guerra è brutta. È solo uno strumento di potere. Ma qui non si può dire. Qui è meglio tacere. È meglio fuggire piuttosto che sparare. È meglio rischiare la vita in mezzo al mare. Io ho solo nove anni e sono solo tra le onde con gli occhi troppo chiusi perché non so nuotare. Mio padre ha preferito scappare piuttosto che vedermi con il fucile in mano. Mio padre ora è salvo ed io lo guardo da lontano. Non vorrei se dispiacesse. Vorrei dirgli che sto bene perché adesso posso giocare con Abdul. Siamo di nuovo insieme.